Cenciarelli ha battuta, Cenciarelli in lungo, al centro per Marucci di testa, rete! 1 a 1, Sparti in Gensano con Marucci che torna a segnare nel suo vecchio campo, parità ristabilita al tredicesimo minuto. Ancora Mancini va sul fondo, mette in mezzo di prima per Sambataro, intuffo ed è il gol! Torza Lorenzo in vantaggio, una grandissima azione corale degli uomini di Cesarini e la grandissima torsione di Alessio Sambataro, 1 a 0, Torza Lorenzo. Può liberare il Cetus, invece c'è l'ottimo anticipo di De Angelis, ancora Montegiordano in avanti, Palumbo, Palumbo entra in area la finta, il cross al centro, c'è Ambrosetti di testa, rete! Montegiordano in vantaggio, al quinto minuto, Ambrosetti può gioire Montegiordano, è già avanti, 1 a 0. Ancora palla per Manganelli sul fronte Mancino, Manganelli alza la testa, splendida palla in mezzo per Versi, il sosto meraviglioso, incrocia col destro, rete! Il tiro Versi, 2 a 0, secondo squillo del tir, il Real Tomezzia raddoppia, sempre lui, il tiro Versi, palla splendida di Manganelli, un dipinto del numero 10. Il difensore respinge, c'è Felicini, il sombrero al volo, è un gol clamoroso, fantastico, Felicini, che gol ha fatto Felicini, sombrero sul difensore e poi battuta al volo, impotente rigon, 2 a 0 per il Torza Lorenzo. Grazie.